Siamo all'ospedale di Caserta, tra il terzo ed il quarto piano, nel padiglione D, ma l'apparenza fa sembrare tutt'altro. Come si può notare con un'occhiata più attenta, le scale che portano ai reparti sono piene delle scritte più disparate. Dediche d'amore, insulti, semplici ricordi. Più che all'interno di un nosocomio, sembra di essere in uno di quei quartieri malfamati di qualche metropoli, firmati da numerosi graffiti. In alcuni casi ci sono anche le date, con le scritte risalenti al 2007. Vuol dire che da almeno 11 anni non si dà una ripulita. Non sarebbe l'ora di farlo? Intanto vi lasciamo alle immagini. Grazie. 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 Grazie.